il baule più bello al mondo 21 in macchina questa volta e senza far fatica perché schiacciamo tutti i ciclisti che ci stanno sul cavolo più in mezzo bella raga nuovo video quanto push vi siamo si sua destra a 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 occhio al fango eh occhio al fango eh troppo sulla sinistra bro eh oh shit bro what the fuck bro la fuerza bro io ti ho visto tipo tuffarti per un attimo il ciuffettino di erba che ti è rimasto lì sul manubri è la mascotte madonna questo era nuovo dai good bro si bro oh shit oh 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 shit oh shit 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 oh l'altro l'altro quello che mi stucco l'altro quello che mi stucco l'altro samu di corato seguitemi su instagram una lente di protezione ah veramente l'altro eccoci qui nuova giornata io oggi ho deciso che scendo senza una ruota l'altro 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 che sound bussala eccolo cos'è eccolo libro è tipo un cerbiati è un coniglio enorme madonna non Grazie a tutti Grazie a tutti Ma dobro